La formazione di questo trofeo Aristeia è composta da? È composta da Alessandro Cerri, da Pedulla Andrea, Bagoncini Giovanni, da Boscacci Fabrizio, da Ivana Catalini e da Valeria Domenici. Questa è la formazione base, ci sono altri atleti che possono subentrare, senz'altro. Riconoscono in te una persona che li coordina con grande passione e ti dedichi a questa squadra del Kipling da molto tempo? Beh sì, sono 5-6 anni che mi hanno dato questa possibilità, qui gestori del circolo Paolo Petri e Giuliano Franciotti, ma ripeto lo faccio per passione e per amicizia, quindi fondiamo i nostri gruppi per amicizia. Tanti ex atleti, tennisti forti fanno parte della tua squadra, questo significa che anche come avete sempre fatto puntate a ben figurare? Beh, senz'altro, l'amicizia è importante, però è anche importante vincere. Cerchiamo di divertirci, ripeto, passiamo molte ore insieme e ci sono degli atleti sicuramente di grande livello. In campo, atleti equilibrati? Beh, hai già detto tutto quanto tu, quello che ci lega anche come gruppo, che per me è fondamentale l'amicizia, è un gruppo di amici, andiamo tutti molto d'accordo, il motto dei moschettieri uno per tutti e tutti per uno, insomma, ho detto tutto anch'io, è un gruppo di grandi amici. Grazie a tutti.